Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo è il video per quanto riguarda i pronostici della 37esima giornata di Serie A. Questo è il mio secondo video di giornata, dopo che ho fatto il video dell'ufficialità che non è più l'allenatore della Juventus e Massimiliano Allegri. Mi raccomando, non vi ubriacate perché... Dai! Bevete lo champagne se vi divertite e c'è un divertimento assai. Vabbè, non pensiamo ad altro, pensiamo ai pronostici adesso. Allora, le partite sono... Udinese-Spal, Genoa-Cagliari, Sassuolo-Roma, Chievo-Sampdoria, Empoli-Torino, Parma-Fiorentina, Milan-Frosinone, Juventus-Atalanta, Napoli-Inter e Lazio-Bologna. Allora, io comincerei da Udinese-Spal. L'Udinese si deve salvare perché già la Spal è automaticamente salva. Io propongo di mettere un l'uno fisso dell'Udinese. Genoa-Cagliari. Il Genoa si deve salvare pure lei. Il Cagliari è quasi salvo. Io spero che il Genoa possa fare almeno una vittoria. Non vince da tantissimo tempo, ma io sono convinto che alla fine vincerà. Se avverrà. Io propongo un 1 del Genoa, a mio modesto parere. Sassuolo-Roma. Sassuolo-Roma, il Sassuolo è già salvo. La Roma ha bisogno di tre punti per andare in una zona Champions. Io propongo di mettere un 2 della Roma. Se non lo sentite, non lo giocate. Chievo Sampdoria. Questa è un'altra schedina più difficile da giocare. Il chievo è matematicamente retrocesso. La Sampdoria non ha più obiettivi da raggiungere. Io propongo un X2 della Sampdoria. O pareggiano o vince la Sampdoria. Empoli-Torino. Empoli-Torino. L'Empoli si deve salvare. E il Torino deve vincere per mantenere in un posto in Europa. Io propongo di mettere un X2. Empoli-Torino-X2. Parma-Fiorentina. Parma-Fiorentina per me... Il Parma deve vincere per la Corsa della Salvezza. Mancano solo due giornate e a meno tre della zona di processione. La Fiorentina è quasi salva, diciamocelo. Però ha fatto tante sconfitte la Fiorentina. Non vince da più di due mesi. Io propongo un 1-X. Parma-Fiorentina 1-X. Milan-Frosinone. Milan-Frosinone per me... Il Milan forse a massimo massimo andrà in Europa League. Il Frosinone è già matematicamente retrocesso. Io propongo uno del Milan. Juventus-Atalanta. Juventus-Atalanta. Domenica ci aspetta una bella festa a Scudetto. La Juventus non gli serve questa partita. E l'Atalanta gli serve per... Se dovesse vincere l'Atalanta... È quasi in zona Champions. Io propongo di giocarvi il gol. Juventus-Atalanta-Gol. Do un favorino all'Atalanta. A me non mi interessa se dovesse vincere l'Atalanta, parlandosi chiaro. Mi spiace soltanto per la Coppa Italia. Perché solo meritava di vincere almeno un trofeo stagionale. E devo dire delle cose giuste. Perché sono obiettivo e realista. Napoli-Inter. Napoli-Inter... Il Napoli è già secondo matematico. L'Inter se dovesse vincere matematicamente in Champions. Non la vedo vincente l'Inter in questa partita al San Paolo. Io vi consiglio di mettere uno X. O gol, diciamo. Io propongo uno X. Non si sa mai. Lazio-Bologna. Lazio-Bologna ha vinto la Coppa Italia. È già matematicamente in Europa League a fasi gironi. Io propongo di giocarvi il gol. Lazio-Bologna, gol. Stop! Questi sono i pronostici della 37esima giornata di Serie A, la penultima di questa stagione. Allora, ricapitolando. Udinese-Spal, uno. Genoa-Cagliari, uno. Sassuolo-Roma, due. Chievo-Sandoria, X2. Empoli-Torino, X2. Parma-Fiorentina, uno X. Milan-Frosinone, uno. Juventus-Atalanta, gol. Napoli-Inter, uno X. Lazio-Bologna, gol. Vabbè, raga, questi sono i pronostici che vi ho detto. Mi raccomando, se questo video di oggi vi è piaciuto, vi invito di lasciare un mi piace, di commentare qui sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, se ancora non l'avete fatto. Se siete appena iscritti, vi spunta la campanella e cliccate per ricevere le notifiche sui miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook, ma soprattutto su Instagram. Ci vediamo presto e godiamoci queste ultime due partite della stagione che non ci servono. E forza Juve! Ciao belli!